salve a tutti benvenuti da one piece i massimi esperti sono il capitano che vi parla oggi parleremo di denjiro denjiro chi è? Kyoshiro c'è poco da dire ragazzi c'è poco da dire ma c'è molto da argomentare vedrete tra poco proviamo a gettare le basi sulla idea che noi abbiamo da una vita sulla sua identità naturalmente da praticamente da quando lo vedemmo e oggi faremo questo approfondimento l'azione con gli elementi messi a nostra disposizione fino a oggi sia dal manga che a volte anche qualche piccolo spunto dall'anime finalmente grazie al flashback iniziato di oden circa 41 anni fa abbiamo visto un giovanissimo denjiro e l'abbiamo visto fino a 20 anni fa quando ci sarà la morte di oden quindi abbiamo visto un grande percorso evolutivo di questo personaggio è stato il primo insieme a kinemon a entrare diciamo tra le fila del grandissimo samurai di wano kuni oden kozuki risulta essere un orfano quindi non è detto che sia stato un figlio unico nel flashback era molto molto giovane portava così una spada somigliante molto alla wade cimonji ma iniziamo a escludere questa situazione perché non ci convince perché lui e kinemon comunque con gli altri foderi in questo presente oggi quando incontrano zoro avrebbero assolutissimamente riconosciuto la spada che fosse appartenuta a un loro compagno praticamente impossibile non riconoscerla visto che hanno fatto tante battaglie insieme adesso proviamo a dire con le varie considerazioni chi non è denjiro e restringiamo il campo il primo che escludiamo è koshiro il maestro di zoro colui che gli diede la wade cimonji che il suo aspetto è molto simile lo ammettiamo e anche l'età potrebbe risultare esatta visto che comunque il flashback inizia 41 anni fa e quello che noi vediamo come denjiro potrebbe avere tranquillamente una decina d'anni visto che odena aveva 18 kinemon 15 denjiro ne poteva avere fra i 10 e 15 anche lui ad oggi maestro di zoro avrebbe precisamente 51 anni quindi se inizia il flashback 41 anni fa oggi avrebbe 51 quindi l'età combacia c'è anche il suffisso finale che combacia denjiro iro sia kokkoshiro che kiyoshiro andiamo avanti anche la storia però raccontata denguiyama ci fa avere un dubbio perché denguiyama dice che la wade cimonji fu forgiata da kozaburo shimonsuki che uscì da wano 50 anni fa illegalmente e lui è quello anche che lasciò la elma a oden se pensiamo che lui come molti di noi abbiamo detto no il fatto dei numeri 3 e 4 kozaburo fosse il padre di koshiro allora se ci fosse stato questo ricame di sangue è probabilmente impossibile che coscire abbia lasciato in seguito wano kuni da sola e questo non spiegherebbe come poi non fosse tornato per la battaglia no e quindi koshiro va escluso anche per una questione di tempistiche un'altra cosa molto importante che koshiro è sicuramente uno shimonsuki c'è un discendente di coloro che erano i daimio dei vari villi delle varie regioni di wano kuni una cosa importante la ripetiamo ma già lo sapete ce l'abbiamo detto nel video sulle erogine di zoro del mese di nascita di zoro e di tante altissime cose come lo stemma sul vestito di jasue quello del maestro di zoro ma anche l'origine il nome di god sword riuma possiamo comunque scudere lui anche per un altro motivo perché perché nella battaglia decisiva che vedremo che abbiamo visto fra il capitolo 969 che vedremo nel capitolo 970 20 anni fa la battaglia decisiva dove morirà oden sappiamo che koshiro che sarebbe secondo noi denjiro e shuntenmaru che asciura sfideranno kai do drago anche dopo la disfatta del loro padrone e questo perché esclude koshiro perché noi sappiamo che fra 22 23 anni fa perché più grande di zoro era nata kuina nel villaggio shimonsuki lì in un altro posto completamente lontanissimo e quindi nel mare orientale era impossibile per lui trovarsi sia nel mare orientale che anche diciamo nelle tempistiche di uano kuni infatti e grazie alla timeline che possiamo escludere il maestro di zoro noi sappiamo che i foderi rossi a parte in una rai cinecoma musci che sono partiti con oden si era intrufollato la nave di barba bianca poi sono passati su roger comunque sono rimasti poi lì a uano dopo quando roger insieme a oden andò alla hotel rap tele come preferite per proteggere e per far conoscere meglio agli altri lady toki mamonosuke e yori l'unico che è rimasto proprio bianca e izo tutti gli altri non si sono mossi da uano kuni anche perché era difficilissimo riuscire a partire quindi non potrebbe mai essere che maestro è andato via e poi tornato indietro per la battaglia finale non avrebbe alcun senso fosse questa situazione si fosse svolta così e quindi non può essere un'altra opzione qualcuno in giro addirittura ha parlato di scopper gaban ragazzi fra tutte queste opzioni secondo me questa è una delle più impensabili mi spiego gaban è il terzo della nave di roger in carica abbiamo scoperto anche che addirittura è il navigatore colui che traccia le mappe colui che secondo noi è sceso per ultimo accompagnano tutti gli altri nelle loro rispettive destinazioni gol di roger silvers di reilly scopper gaban quindi in conseguenza è impossibile prima cosa seconda cosa ancora più improbabile il fatto che quando oden sale sulla nave non lo conosceva non si conoscevano è ancora più probabile e scopper gala nella sua nave di roger già anni e anni prima di incontrarsi con con su chiude altra opzione da escludere che secondo me praticamente belle italia proprio categoricamente no si delale è impossibile e che del giro sia morto impossibile impossibile è una cosa che io escludo a priori non avrebbe senso perché comunque chi ne vuole dice non abbiamo trovato ancora di in giro e quindi lui sa che è vivo però non ha ancora trovato adesso passiamo a colui che secondo noi non è altri che den giro naturalmente ci riferiamo a kiyoshiro in emu il capo della yakuza loya bun grandissimo personaggio che diciamo oramai da tantissimo tempo che secondo noi è lui magari sta portando avanti un altro piano personale come abbiamo già rifletto più spesso per potersi rivendicare di orochi e sarebbe d'accordo con la nostra yori slash komurasaki il loro legame si inteseca si infittisce per diverse cose infatti il capo della yakuza come è un proprietario di un bordello infatti lo vediamo in compagnia di comuna sagra che frega degli uomini vecchi no inganna se ricordate ma soprattutto è il gestore delle finanze e il cambio valute e noi vediamo anche fischiettare stessa cosa che vediamo fare a un giovane den giro quando iniziava a fregare le varie persone per accavararsi più soldi o per pagare delle pentole eccetera a un prezzo più basso di quello invece che era stato vattuto sappiamo un'altra cosa importante che lui ha conoscenza della profezia di le tiktoki e queste sono poche le persone a poter conoscere questa cosa per l'acconciatura beh diciamo così che l'unica cosa che facilmente modificabile anche nel colore nel come si portano i capelli infatti non dimentichiamoci che wano kuni è una rappresentazione del teatro kabuki quindi potrebbe essere benissimamente una parrucca a una cosa del genere ricordatevi che si aprono gli atti vi voglio fare un esempio in giappone che ha passato anche il detective con non so se lo seguite c'è uno dei più grandi attori di kabuki di sempre e bizzo ichikawa che è apparso anche proprio in conan e che fa questi tipi di situazione indossa maschere si dipinge la faccia si cambia gli sguardi si mette le parrucche perché lui porta i capelli rasati in realtà cambia aspetto continuamente dando sempre una dimostrazione folcloristica del personaggio quindi potrebbe facilmente cambiare il suo aspetto mi riferisco al chiuscito del giro anche per gli occhi ricordate a quegli occhi molto piccoli del giro portava gli occhiali quindi questi occhi molto sottili potrebbe riferirsi al fatto che la luce eccetera eccetera lui non riesca a vedere perfettamente e quindi quando uno vi dà fastidio la luce negli occhi tende a rimpicciolire gli occhi quindi questo è un altro indizio secondo il nostro punto di vista altri indizi importanti ci vengono dati sul fatto che l'unica non essere presente quando si riunì l'alleanza al pari di komura sakhi yori non fossero andati lì proprio perché secondo me è lui e quindi non poteva ancora mostrarsi ai suoi compagni chiuscito poi un'altra cosa ancora più importante è stato lasciato da solo a custodire la capitale dei fiori quest'anno alla festa del festival di fuoco e dove cosa c'è lì alla capitale dei fiori c'è la prigione di rasetsu con ben mille e dico mille samurai e prigionieri ricordiamoci pure che il grandissimo oroci vero villian villain come riferite ha interrotto tutti i porti per andare verso il mare eccetera ma non ha interrotto però le comunicazioni fra le varie regioni per approdare proprio all'interno della capitale così che tutti possano confluire nella capitale e questa è una cosa molto importante un'altra cosa importante anche se voi direte vabbè però l'anime non è canonico però va bene comunque perché comunque ci fa molti spoiler ultimamente l'anime quando vengono nell'anime nella sessione della opening le varie sessioni dove vengono mostrati i foderi rossi lui viene messo alle spalle parlo di kioshiro cioè del giro di shuntemaru a shura doji quindi secondo noi questo è un'altra polese molto importante quindi del giro dopo aver assistito alla storia di orochi cosa abbiamo fatto anche noi grazie a flashback ha fatto il percorso inverso cioè un servo di oden il più scaltro più intelligente l'abbiamo visto anche quando addestrava gli amici gli altri si addestravano per combattere cedera lui invece gli impartiva lezioni didattiche di intelligenza no anche nello scrivere si è fatta lavorare nelle file nemiche per attuare la sua vendetta dall'interno ricordati orochi occhio per occhio dente per dente ricordiamoci infatti che probabilmente una delle persone che più odiava orochi e che non voleva infatti che lord oden gli prestasse soldi senza poi farsi restituire era proprio den giro che più volte l'abbiamo visto arrabbiarsi per questo tipo di situazione un'altra cosa molto importante da notare la somiglianza fisica di den giro koshiro anche alla luce degli ultimi capitoli anche il tipo di faccia come lunghe il tipo di naso visibilmente il suo volto allungato eccetera è molto molto coincidente con le due figure ma vedete qui le immagini qui all'interno del video che vi faranno più o meno equiparare i due personaggi e infine non dimentichiamoci come lui ha salvato rochi nella capitale dei figuri dall'attacco di zoro dopo la morte di jasu poiché la prematura morte dello shogun cosa avrebbe portato amici a scatenare l'ira di kaido e quindi sarebbe saltato tutto il piano e tutti gli altri non avrebbe più avuto senso continuare in questa situazione quindi lì è andato a rafforzare quello che era non è ancora il momento di fare la guerra dobbiamo aspettare il giorno prestabilito den giro koshiro veramente più intelligente più scatole di tutti ancora una volta infine parliamo di uscimizu coso no non me ne sono dimenticato di which hour boy il giovane lato dei rintocchi viene detto che ruba i ricchi per dare poveri in stile robin hood ma la cosa più significativa è che dispensa denaro come abbiamo visto infatti negli ultimi capitoli così da poter permettere ai poveri di comprarsi almeno un po di acqua potabile quindi il legame molto stretto anche se rimane comunque un'ipotesi è quello che farebbe di den giro koshiro e allo stesso momento anche uscimizu coso gestione delle monete cavo della yakuza infiltrato da oroci è allo stesso tempo l'uomo che ruba dall'interno per poi aiutare i poveri questa volta i saluti li faccio io katakuri volevo soltanto aggiungere una piccola questione su koshiro vediamo come lui definisce oroci un idiota uninetto e quindi di come in realtà lui lo odi e in più un'altra situazione è quella che c'è uscire essendo lui nella capitale dei fiori potrebbe essere davvero l'arma finale per questa grande guerra portando quindi i mille prigionieri di rasezuli e quindi cambiando le sorti proprio della guerra finale è da avere un ruolo pari a quello di kinemon infatti ricordiamoci che anche kinemon e den giro sono stati i primi di essere arruati da oden quindi hanno la medesima importanza poi come sempre non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri link che trovate qui in descrizione delle pagine facebook ossia one piece i massimi esperti italia one piece e tanto altri massimi esperti il gruppo facebook l'account instagram ricordatevi il nostro nuovo canale telegram a cui a breve creeremo anche il gruppo e le nostre collaborazioni ossia animetubers assemble e mogiwara italia da massimi esperti è tutto alla prossima amici